Dove siamo? Naksan Sa, un tempio vicino al mare, sempre nella costa est, giusto? Sì. E quindi adesso noi stiamo per andare di là. Questo è il tempio e noi adesso procediamo di là. Questa parte è di nuovo perché 15 anni fa questa parte era bruciata tutto. Un incendio? Allora ancora ricostruito. Ancora ricostruito. Quindi qua è nuovissimo. Tutto nuovo, sì. C'è l'acqua, come sempre. Allora, allora. Ed eccoci qua. Il papavirochi. E siamo arrivati. Forse una porta è aperta. No, è tutto chiuso. Ad ogni modo, eccoci qui. Allora, allora, eccoci qua. Allora, eccoci qua. Ok. Allora, eccoci qua. A presto. È benissimo. È benissimo. Grazie a tutti.